Studenti sempre più consapevoli e attenti all'ambiente. Questo è stato il leitmotiv con cui il comune di Civitanova ha consegnato la diciottesima bandiera verde alle scuole che hanno aderito al progetto EcoSchool 2023. Da presepi fatti con tappi di plastica, la realizzazione di punti di raccolta differenziata davanti alla scuola, sino al progetto con le biomaste per un sostentamento ambientale ancora più all'avanguardia. Il risultato finale di un lavoro che viene fatto durante l'anno dove i temi sono tutti quelli ambientali, quelli della raccolta differenziata, quelli della sostenibilità che sono temi oggi di grandissima attualità soprattutto legati al PNRR e noi invece siamo partiti 18 anni fa quindi per certi aspetti addirittura precursori. Il sindaco ha reso partecipi bambini e ragazzi anche del fatto che grazie alla loro attenzione all'ambiente, sino all'ottenimento della bandiera verde, sono stati artefici anche della bandiera blu con cui da ormai 20 anni consecutivi viene onorata la città di Civitanova per la pulizia e responsabilità delle proprie spiagge. Insomma è proprio dalla tenere età che si deve educare al rispetto dell'ambiente e alla sua salvaguardia. Noi da anni diciamo che vorremmo Civitanova una città con l'infanzia cioè davvero a misura di tutti, a misura del più piccolo, del più fragile, del più indifeso e le consapevolezze si raggiungono insieme anche passando appunto da un uso idoneo e consapevole anche di quello che è lo spazio di tutti.